...della Roma in questa partita, soprattutto in tutta la stagione, come sono la propria firma, tutte le gare più importanti della stagione. ...tutto da rifare, è parziale che non cambia il Fersini, 1-0 per il Milan, ma ancora la Lazio, di pura ostinazione di Aie, entra in area di rigore. Però non ha potuto tesserarlo fino a febbraio, che il Lanus si è rivolta alla FIFA, sostenendo che il... ...de Bianco Celetti. Modic, regalo a Di Aie, che lo salta di netto, quindi Rossi, si fa scorrere il pallone, lo tiene comunque in campo, ancora Di Aie, con l'esterno a cercare Bari, ancora Di Aie che va via, cross e passa, cercare Rossi, ancora Bezziccheri. ...occhiata dentro, il cross sul secondo pallone, dove c'è Di Aie, punta il suo uomo, entra in area di rigore, cross è teso, allontana Gabbia, buona. Scarico per Di Aie, vai con il cross sul secondo palo, per un attimo non è Rossi, quindi Bari, pallone lungo a cercare la corsa di Di Aie, duello con Gabbia, non lo prende il numero 4 del Milan, scappa via Di Aie, attenzione, cross è dentro, teso, pallacchere... Di Aie, l'appoggio per Muzzi... ...el cambio no calienta nada más, así que no creo que agote el resto de... ...en cuanto a hombres o jugadores, porque tiene esos dos compromisos de pretemporada, almeno según anunciaba el tweet... ...quiero ver, Nacho, cuantas veces vamos a repetir esa frase del equipo... ...se va Moyano, se va Moyano, toca en corto, para Kim Araujo... ...encore i due... ...per Bari, ancora l'ex giocatore... ...in corso dell'undicismo minuto del primo tempo, zero... ...poggio ancora Di Aie... ...le crossa sul secondo palo... ...naturalmente sulla panchina della Lazio... ...se già era complicato prima, figuriamoci ora... ...sotto Di Nuomo e sotto... ...mi fa notare che probabilmente era... ...tecnico della Lazio... ...Polo Ruscio, arriva in ritardo sul passaggio di Di Aie che riesce comunque a recuperare palla... ...fosse di prima, palla fuori... ...ancora combinazione... ...direttamente il pallone a Lamine Di Aie... ...tutti dentro l'area di rigore... ...sinistro a rientrare... ...colpo di testa di fuoco... ...il cross sulla sinistra per Di Aie che ha un po' di spazio... ...attenzione al contropiede Bianco Celeste... ...ancora Di Aie... ...carica il sinistro... ...deviazione... ...Torrasi... ...recupera la Lazio con i bari... ...quindi Di Aie... ...qualche fortuna qui... ...attenzione... ...altro fallo nei confronti...